Gianluca, sul volto i segnali di quello che è successo proprio nei secondi di recupero? Sì, diciamo che io ho preso la palla, il portiere con un cazzotto mi ha colpito, involontariamente, naturalmente ci tengo a dirlo, ma era rigore, era rigore, probabilmente il risultato sarebbe stato diverso, però ci tengo a fare i complimenti al Favale perché ha fatto una grande partita, tengo a fare i complimenti alla mia squadra perché non abbiamo mollato un secondo e è un peccato perché la scorsa partita prendiamo gol al 94esimo, questa volta lo potevamo rifare, purtroppo la terna arbitrale che non era all'altezza non ha dato questo rigore netto, si vede anche dall'immagine. Quella vostra partita l'avete fatta dall'inizio con grande pressione e grande volontà? Sì, un anno difficile, sapevamo che questa partita era il culmine di questa stagione difficile e i fatti lo hanno dimostrato perché non bisogna piangere nel calcio e nella vita però tanti episodi contro a volte ti fanno scoraggiare, anche l'errore del portiere che purtroppo ha consegnato il pareggio agli avversari non ci ha demoralizzato, abbiamo continuato ad attaccare, abbiamo avuto le nostre occasioni e poi l'epilogo è stato questo rigore non dato, le quattro espulsioni inutili dell'arbitro purtroppo ci condannano ad aspettare la prossima partita. Voi avete messo tutta la volontà possibile, sin dall'inizio, grande pressione, volevate vincere questa partita a tutti i costi, siete anche passati in vantaggio e ci avete provato veramente fino all'ultimo secondo? Certamente sì, sono nelle ultime quattro partite, a parte la parentesi viena lenta, noi abbiamo sempre spinto al massimo, ragazzi non gli posso rimproverare nulla perché anche oggi hanno fatto una prestazione super e purtroppo il risultato è bugiardo perché avete visto voi tutta la partita, vedrete la partita, abbiamo dominato a parte i primi 15 minuti in cui non riuscivamo a prendere il palleggio loro, dopo 15 minuti abbiamo capito il loro modo di giocare e poi abbiamo spinto fino alla fine, se avete visto il rigore alla fine era nettissimo, anche il primo tempo c'è un altro rigore per noi, non si può condizionare una partita in questa maniera, tutto qua. Dopo questa seconda giornata siete in testa al triangolare, però domenica ci sarà quest'altro match tra Virtus Castelfrentano e Favale, una settimana ancora di passione, ci sarà anche se di fatto non scendete in campo? Sì, dobbiamo attendere domenica, sperando un risultato che possa convenire a noi e a qualcun altro perché una sola retrocedere e altri due si salvano e attendiamo domenica questo verdetto. Quando ci siamo sentiti in settimana si sapeva che il match poteva essere fortemente spigoloso, è spigoloso, botta e risposta nel secondo tempo, voi avete avuto anche nel secondo tempo la palla per passare in vantaggio, ma il match è molto teso fino alla fine. La posta in palio è enorme, quindi vale una stagione, vale una stagione non solo per i ragazzi, per i tecnici ma soprattutto per le società che hanno investito, fatto sacrifici, quindi è normale che si sapeva che sarebbe stata una partita così. È vero che abbiamo avuto la palla della salvezza al 95esimo, ma bisogna essere onesti, abbiamo concesso due o tre occasioni a loro in un momento in cui dovevamo gestire molto meglio a certe situazioni, quindi per quanto riguarda le polemiche che sicuramente ci potranno stare sul discorso rigori e non rigori, credo che anche nel primo tempo per noi ce n'erano un netto, però al di là del discorso arbitrale credo che fondamentalmente la partita sia stata equilibrata e il risultato sia stato giusto, è chiaro che purtroppo bisognerà soffrire fino alla fine, fino all'ultimo, fino all'ultimo minuto, sinceramente speravo un qualcosa di diverso. Guarda che ha rispecchiato il grande carattere, come dicevamo anche in settimana, a un certo punto di Loretta è andato a saltare su un'azione d'angolo, si è rattardato in attacco, però a Chaval è riuscito a recuperare difensivamente. A Chaval è un giocatore che ha il temperamento e il carattere che piace a me, è un giocatore importantissimo, noi abbiamo pescato questo ragazzo a dicembre, avevo ottime referenze da parte di un mio ex ragazzo che ho allenato, che sta facendo molto bene a Castelfi d'Ardo e mi ha detto vai tranquillo, prendi gli occhi chiusi, è stato così, per me è stato determinante, non solo sotto il profilo delle reti segnate, ma è un giocatore che sicuramente ha più temperamento e più spirito di attaccamento all'ambiente, ai colori, nonostante è un ragazzo argentino.